In un mondo troppo spesso preso dalla frenesia dei propri interessi personali, si rischia di dimenticare che la salvezza non si compra perché l'iniziativa di Dio è sempre gratuita. Lo ha ricordato Papa Francesco celebrando la Missa a Santa Marta. Partendo dai testi evangelici della settimana, il Pontefice ha chiarito che l'unico biglietto che bisogna pagare per accedere al banchetto del Signore è il bisogno, essere bisognoso di cura, di guarigione e di amore. Solo in questo modo è possibile entrare nella dinamica della gratuità e comprendere che il Padre Celeste in contraccambio non chiede nulla, solo amore e fedeltà. E quando tu perdi, non dico la capacità di amare, perché quella si recupera. La capacità di sentirti amato. Non c'è speranza. Hai perso tutto. Ci fa pensare allo scritto nella porta dell'inferno dantesco. Lasciate la speranza. Hai perso tutto. Dobbiamo pensare davanti a questo Signore, perché io vi dico che la mia casa, io voglio che la mia casa si riempia. Questo Signore che è tanto grande, tanto amoroso, che nella sua gratuità vuole riempire la casa. Chiediamo al Signore, ci salvi di perdere la capacità di sentirsi amati. di perdere la capacità di sentirsi amati. 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 M